Ehi tu! Ciao, sono Turi! Seguimi, ti accompagno io e vedrai che non sbaglierai! Per prima cosa, ecco i migliori hotel e bed and breakfast. Li ho testati per garantirti il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono una buona forchetta e ho selezionato i migliori ristoranti, le cantine, le pasticcerie e le botteghe dove potrai gustare solo il meglio dei sapori siciliani. E per non sbagliare, ecco gli itinerari alla scoperta della storia, dei monumenti e dell'arte in Sicilia. Ed infine, ecco le sagre, gli eventi e i luoghi per vivere alla Sicilia. La Sicilia, quella vera! Dai, fatti sto bagno! Tra mare e montagna, non ti facciamo mancare proprio niente! Turi sta arrivando!